Entrate in un'esperienza culinaria unica con l'avocado alla griglia. Raccogliete 1 avocado, 100 g di pomodori secchi, 2 spicchi di aglio, il succo di 1 limone. Mettete i pomodori secchi, l'aglio e il succo di limone in un frullatore e frullate fino ad ottenere una salsa omogenea. Tagliate a metà l'avocado, rimuovete il nocciolo e grigliate su una piastra ben calda per 2 a 3 minuti. Cospargete la salsa di pomodori secchi sulla superficie grigliata dell'avocado. Servite l'avocado grigliato su un bel piatto da portata e godetevi la vostra creazione culinaria da chef stellato.